Uno degli aspetti principali dell'attuale fase economica e sociale è quella legata all'emergere e soprattutto a rafforzarsi delle disuguaglianze. Abbiamo di fronte disuguaglianze di genere, disuguaglianze territoriali, disuguaglianze economiche. All'interno quindi di questa sessione cercheremo di dare un approfondimento su questi aspetti. Dal punto di vista territoriale abbiamo due interventi, uno legato più al frame territoriale e quindi al settore delle imprese e l'altro invece agli indicatori di sostenibilità che cercheremo di presentare come mappatura all'interno del PNRR. Gli altri interventi invece sono maggiormente legati ad approfondire sia gli aspetti di genere con l'intervento della ragioneria generale dello Stato sul bilancio di genere, sia alcuni aspetti di analisi delle disuguaglianze. Questo è un lavoro un po' più analitico presentato dall'Università di Sant'Anna.